Un momento che blocchiamo la musica, un momento è solenne, abbiamo l'onore di avere ospiti in questa manifestazione, una scuola di arti marziali, una scuola di Kung Fu, necessita loro del tempo appunto per poter montare delle attrezzature, nel frattempo io ve li presento come si devono, eccoli qui, l'Accademia di Difesa Personale Sardegna accompagnata dal maestro Pandolfi, è uno dei migliori maestri al mondo, in Sardegna rappresenta la scuola di Hong Kong del grande master Vip Kung, figlio di Hip Man, famoso maestro di Bruce Lee, tra i suoi allievi diventi diversi campioni sardi, nazionali ed internazionali, ed il quartese Stefano Vargi, unico rappresentante sardo nella nazionale italiana di Kung Fu tradizionale e Sanda, cioè combattimento a pieno contatto. Il maestro Pandolfi la settimana scorsa ha dedicato a Rossella Urru la giornata nazionale del Kung Fu, facciamo un bel applauso al ricordo, come potete anche notare sia il maestro che tutti gli allievi portano appunto sulla cinta nella testa una fascia con lo scritto Rossella Libera e anche noi ci uniamo a questo grido affinché Rossella possa tornare presto nella sua famiglia e tra di noi. Per questa importantissima festa i ragazzi indosseranno appunto questa fascia e comunque che dire, i maestri sono qua, io di arti marziali purtroppo non so dirvi niente, vi lascio al maestro, chiediamo al maestro appunto cosa, se vuol dire due parole anche per presentare la vostra iniziativa. Grazie a tutti per essere qui presenti, noi faremo un'esibizione completa in quindici minuti di quello che facciamo, tutto il mondo delle arti marziali orientali, dalle forme semplici alle forme con le sciabole, forme doppie e poi faremo un combattimento tra una lancia e una sciabola molto spettacolare e delle acrobazie. Niente, io farei solo un applauso per Rossella Urru e stiamo vicini ai parenti e agli amici di San Mugeo. Grazie. Penso che a questo ci sinisca tutti quanti, non solo Quarto ma tutto il mondo vorrebbe vedere appunto a casa Rossella. Allora, l'Accademia di Kung Fu. Paglia di San Mugeo Paglia di San Mugeo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti